Tutti i negativi tamponi effettuati nel comune di Ogliastro Cilento relativi ai primi risultati effettuati nel comune cilentano in seguito ad un caso di coronavirus. Ad ufficializzarlo è il sindaco Michele Apolito. Negli scorsi giorni infatti un uomo residente ad Ogliastro dimesso all'inizio di agosto da una struttura ospedaliera di Salerno e poi da una di Milano era risultato positivo al covid dopo il suo ricovero presso l'ospedale di Agropoli dove si era recato per problemi di salute personali e dove è stato sottoposto come da prassi a tampone che poi risultato positivo. La situazione del 53enne ora ricoverato nel reparto covid di Scafati aveva portato a sottoporre a tampone tutti i sanitari del presidio ospedaliero agropolese venuti a contatto con lui che però hanno dato nella loro totalità esito negativo. Ora un primo sospiro di sollievo anche per i cittadini di Ogliastro Cilento vista la negatività dei tamponi effettuati sui contatti stretti dell'uomo. Si attendono i restanti risultati degli esami a cui sono stati sottoposti dei cittadini del comune Ogliastrese. Nell'annuncio il sindaco Apolito invita nuovamente al rispetto delle norme precauzionali contro il coronavirus e nonostante i risultati che fanno ben sperare la popolazione invita a mantenere alta l'attenzione.